Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi ti porto ancora una volta nel mondo del credito immobiliare, di mutui, dei finanziamenti, insomma parliamo di soldi e lo facciamo con un grande protagonista del settore dell'ambiazione del credito che è Samuele Lupi Di, CEO di Alphacredit. Ciao Samuele e grazie per essere con noi. Ciao Gerardo, grazie dell'invito a te. Allora una breve nota su Samuele, Samuele è un grande esperto di credito immobiliare ma dal mio punto di vista ha saputo mantenere la curiosità del bambino, il che lo porta a pensare sempre in modo creativo e innovativo che sono due aspetti diciamo fondamentali per attualizzare un po' un settore che tendenzialmente è ancora un po' farraginoso. Prima di entrare però nel merito insomma di questi temi importanti volevo che insomma Samuele ci parlasse un po' di chi è Alphacredit. Allora Alphacredit è una società di consulenza e intermediazione del credito, quelle per capirci nate con il decreto 141. Nasce nel 2013 in effetti con il nome di Mutuipi del gruppo Ipspa che è un gruppo attivo nel settore immobiliare e soprattutto industriale. E poi nel 2020 quindi in piena pandemia con un gruppo di soci, sempre con il gruppo Ipi come azionista di maggioranza rileviamo parte delle quote di Mutuipi, entriamo nella compagine sociale con l'idea di far crescere l'azienda che fino a quel momento era rimasta diciamo all'interno del gruppo per attività del gruppo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme delle competenze elevate nel management sia di primo che di secondo livello. Peraltro devo dirti che insomma Alphacredit per come l'ho scoperta io è un'azienda che ha insomma dei soci direi blasonati ma anche un board te compreso di tutto rispetto che non è una cosa così comune nel nel settore. Sì in effetti come dicevo abbiamo messo insieme delle competenze alte proprio perché vogliamo fare qualcosa in più rispetto al retail e basta nel settore della mediazione del credito. Vogliamo dare diciamo profondità di sguardo alla nostra attività quindi cerchiamo anche di fare la fase consulenziale in modo attento perché ci rivolgiamo non soltanto al retail quindi alle persone fisiche ai privati ma ci rivolgiamo anche con una divisione specializzata al corporate finance quindi il finanziamento alle aziende e ritengo che bisogna essere specializzati e specialisti per dare a ciascuno il meglio al cliente perché non è allora chi sa fare corporate finance spesso anzi direi che non sa fare retail e così come chi fa il retail non sa fare il corporate finance occorrono competenze occorrono specializzazione io sono per la verticalizzazione delle competenze. Già questo aspetto di cui mi parli cioè l'orientamento alle aziende costituisce diciamo per la mia conoscenza del settore un punto di differenziazione rispetto alla concorrenza quali sono altri aspetti che creano distinzione diciamo del modello alfa credit rispetto ad altri ma guarda gerardo diciamo che oggi l'unica cosa che può distinguere una società di mediazione creditizia dall'altra ritengo siano due cose e cioè il modo in cui entri in relazione con il cliente quindi l'attività la prima attività modo in cui il cliente ti conosce e tu sei disponibile e veloce nell'entrata in relazione e poi la consulenza come dicevo nella la competenza scusata scusami nella fase consulenziale alcuni pensano che la differenza la faccia quanti accordi hai con quante banche hai diciamo che questo non ritengo che possa essere diciamo un segno di distinzione perché oggi il mediatore creditizio è sempre più lo sarà può entrare in relazione anzi sarebbe preferibile che esplorasse tutto il panorama bancario per quanto possibile perché deve trovare il prodotto su misura per il cliente questo fa un buon consulente quindi l'entrata in relazione con più banche anche come si dice in gergo offline cioè al di là delle convenzioni dirette deve essere il modo di gestire la clientela quindi come ci distinguiamo per la parte consulenziale cosa ci distingue sicuramente il livello di signori di dei nostri consulenti la competenza estremamente elevata ecco questo è davvero un segno di sentivo importante la fase di formazione per noi è fondamentale ma e di non solo la formazione tecnica poi ci torneremo anche su questo aspetto magari sembrano consenti certo perché la fase di formazione è importante anche per quanto riguarda le soft skill no quelli saranno i veri tratti distintivi rispetto agli altri poi la costruzione di percorsi istruttori delle pratiche che possano risultare dei risultati generare scusami dei risultati positivi negativi che siano ma in tempi brevi tempi accettabili e per fare questo occorre organizzazione occorre struttura occorre dare ai collaboratori gli strumenti necessari quindi ecco diciamo che tutte queste cose messe insieme credo facciano possono fare la differenza diversità in un mondo che si sta sempre più focalizzando no sul servizio al cliente quando parliamo di servizio al cliente non possiamo fare a meno di parlare anche di innovazione digitale io so che è un tema che come a me sta a cuore insomma anche a terra tua azienda qual è lo stato quindi ti chiedo della dell'arte nell'innovazione digitale proprio nel settore del credito ma allora chiaramente in questo momento nell'ultimo anno oggi leggevo anche no ma lo leggevo anche ieri dire la verità sui giornali specializzati no si parla sempre di innovazione di contatto di modo di contatto eccetera perché la pandemia per forza ha stimolato no la digitalizzazione dei processi e quindi diciamo che stiamo stiamo crescendo tutti noi tutte le società tutte le aziende le banche perché devo dirti che fino a qualche tempo fa erano le banche in arretrato rispetto a qualche società di mediazione creditizia per la gestione no del del prodotto digitale oggi diciamo che stiamo che stiamo crescendo no linea in linea generale il bisogno che va soddisfatto ecco come servizio al cliente proprio dare al cliente stesso la possibilità di entrare in relazione con te azienda nel momento in cui lui sente il bisogno questo è uno dei fattori di successo cioè io io devo poter entrare entrare in contatto con l'azienda anche il sabato sera o la domenica pomeriggio mentre sono a casa comodamente seduto sulla mia poltrona che rifletto sul da farsi col mio smartphone quindi questo è il modo giusto di pensare come servizio al cliente no ma che non può essere soltanto un mero diciamo elenco di rate possibili da pagare per un certo tipo di finanziamento che io che io chiedo no ovviamente deve esserci dell'altro e questo è questo quello che bisogna costruire quindi forte momento nell'ingaggio e dopo si passa alla fase consulenziale che deve essere di qualità eccellente siamo ancora lontani da dall'ottimo questo questo è chiaro c'è ancora molto di analogico nonostante ripeto gli ultimi tempi si è fatto moltissimo per andare verso il digitale però tante aziende soprattutto quelle più grandi devo dire no che hanno già molto molto mercato forse si sentono pagati forse sai rivoluzionare un'azienda grande mentre devi continuare a produrre è difficile però siamo ancora molto analogici ecco questa è la vera insomma consulenza consulenza remota ma personalizzata al cliente che superi non classico simulatore rata mutuo e poi soprattutto la grande sfida è proprio diciamo il processo di raccolta documentale e lite ristruttore dove tu ben evidenzia il fatto che diciamo puoi essere anche diciamo ultra performante se però trovi ancora qualche collo di bottiglia nelle banche che pur stanno migliorando il problema poi dell'attesa dell'esito della luce verde e poi insomma fino all'appuntamento ecco per l'erogazione insomma sono ancora tempi tutto sommato abbastanza lunghi c'è da fare sul piano digitale proprio per dare un'accelerazione diciamo a questo a questo segmento di di attività anche perché come insomma abbiamo già condiviso più volte anche la velocità del fintech delle piattaforme di prestito tra privati o tra prestatori e aziende quanto sono rapidi e veloci sarebbe bello immaginare questo mondo applicato ai mutui cosa ne pensi? assolutamente sì c'è spazio devo dirti soprattutto per quanto riguarda la landing generation sia di richiesta che di finanziamento vero e proprio l'attività fatto con il crowdfunding ci sono fondi che sostituiscono le banche perché sono più veloci nel modello decisionale che molto è rimandato all'intelligenza artificiale a degli algoritmi che utilizzano l'andamentale della società per andare a vedere se sono finanziabili o meno della società o del privato quindi andando a vedere qual è il comportamento della persona o dell'azienda come utilizzatore di sistemi bancari quindi sono tutte queste attività che possono assolutamente portare novità nel mondo del privato certo concordo parliamo un po' di presente quindi un 2021 che insomma porta con sé rischi ma anche opportunità quindi volevo un po' capire da te come vedevi questo mercato diciamo sui vari fronti stretta creditizia sino tematiche legate diciamo alla moratoria alle moratorie dei mutui di finanziamenti ci sono un po' di punti interrogativi che insomma richiedono un po' di chiarezza e soprattutto è un buon momento per impostare una carriera professionale nella mediazione del credito allora ti dico sì e ti spiego anche perché secondo me questa è un'ottima carriera per chi vuole lavorare in questo settore cosa sarà del 2021 insomma questa è una domanda come si dice da un milione di dollari il 2021 ritengo sarà un'incognita io sono un ottimista per natura qualcuno dice che fare questa domanda a me insomma non ha gran significato proprio per il mio ottimismo ma sai a volte l'ottimismo ti dà la forza di superare i momenti no però anche con uno sguardo pragmatico questo devo devo farlo assolutamente chiaro che in questo momento tutto tutta questa tutta la pandemia ma anche se vuoi l'azione del governo che è ritardata i vaccini che non arrivano se mettiamo tutte le cose insieme oppure anche leva che ha emanato una direttiva per cui dopo nove mesi crediti di moratoria moratoria stabilita dalla legge anche dopo anche con questo dopo nove mesi crediti no vengono trattati in modo come se fossero deteriorati ecco tutte queste cose insieme rendono il 2021 in effetti problematico ma noi che cosa possiamo fare in effetti perciò dicevo che è sicuramente una carriera che bisogna tenere in considerazione perché passato questo periodo sicuramente il consulente del credito ha un'autostrada davanti a sé siamo una rete di distribuzione a costo variabile dobbiamo alzare le nostre competenze come dico sempre ma attenzione perché questo perché le competenze medie o basse no nel settore possono essere sostituite dal machine learning o addirittura si pensa si possono creare anche strutture di di player che emulano e imitano il funzionamento del cervello ma le soft skill come l'empatia il buon senso la comprensione e lo stato d'animo unito ad alte competenze tecniche ecco quella sarà la peculiarità che deve far creare dei consulenti del credito che possono essere davvero il futuro il presente il futuro di questa di questa professione le banche hanno e avranno sempre più bisogno di reti come le nostre a costo variabile ma con queste competenze cioè quello che la machine learning il deep learning può sostituire le cose che possono essere sostituite le banche le sostituiranno ma altre competenze che attengono più all'umano non potranno essere sostituite ecco quindi competenza alta attenzione ai soft skill formazione continua queste sono le cose che daranno profondità a questo questa professione per clienti che vogliono accedere a un finanziamento mutuo o per consulenti del credito o potenziali tali che volessero avvicinarsi dall'alfa credit ricordiamo il sito web alfa credit punto it che è ricco di contenuti ed opportunità di contatto samuele guarda siamo addirittura ad arrivo con i nostri tempi quindi che dirti ti ringrazio moltissimo per le informazioni che hai voluto condividere con noi e sono certo tornerai allo sgabello nei prossimi mesi per darci ulteriori informazioni grazie grazie gerardo prima di chiudere ti ricordo che se hai un servizio un prodotto un'idea da dedicare al mondo dei servizi immobiliari vuoi presentarlo da questo sgabello virtuale puoi farlo scrivendo lo sgabello chiocciola gerardopaterna.com ti aspetti un'occasione del prossimo video a presto a presto